E' stata inaugurata oggi la rotatoria realizzata proprio per consentire l'innesto autostradale Bussi-Pescara. I lavori sono stati realizzati dall'ANAS in tempi celeri, ma soprattutto si è scongiurato il pericolo della svolta a sinistra che una volta era vietata, ma comunque veniva fatta da molti automobilisti. Sì, io devo innanzitutto ringraziare appunto il prefetto di Pescara che ha saputo mediare tra tutti gli attori istituzionali. Quando più di un anno fa oramai su mia richiesta si sono iniziati a convocare i tavoli in prefettura abbiamo finalmente trovato l'accordo tra il gestore dell'autostrada e ANAS per realizzare uno svincolo in sicurezza. E' inutile far finta di quello che succedeva, di fatto avveniva una svolta pericolosissima a sinistra che era vietata da automobilisti ma anche da camion, quindi c'era un pericolo della sicurezza, delle volte anche ignorato. C'era un grido di allarme e di stupore da parte dei cittadini e per una volta la politica ha realizzato ciò che ha detto. Quindi ci troviamo su un'opera che di per sé è banale come una rotonda, ma una rotonda che si è pensata e si è realizzata in pochi mesi che di fatto ha consentito a tutti gli automobilisti che provengono dalla Valle Peligna, dalla città dell'Aquila e dalle aree interne di fare una svolta in sicurezza e di accorciare anche i tempi di percorrenza perché non bisogna passare più all'interno dei comuni per andare a Pescara ma si può fruire direttamente dello svincolo costradale di bussi popoli. E si diceva anche un'opera realizzata in tempi brevi tutto sommato? Un'opera che è stata chiusa nel tavolo di mediazione ad agosto, a fine anno sono partiti i lavori e oggi siamo nel mese di marzo realizzata. È un'opera vera, oggi stiamo celebrando la fine lavori di questa opera che da domani consentirà a tutti gli automobilisti abruzzesi di fare una svolta in sicurezza e di congestionare anche del traffico pesante i comuni a valle dello svincolo costradale come Torre dei Passi. Quindi una buona politica che per una volta dà una risposta in tempi celeri. Lavori realizzati dall'ANAS? I lavori sono stati realizzati da ANAS che si è fatto parte attiva in questo lavoro di mediazione. Poi vedremo di chi saranno le competenze vere ma devo ringraziare sicuramente ANAS perché in pochi mesi ha realizzato uno svincolo autostradale con questa rotonda in netta sicurezza. Questa rotonda risolve il problema della viabilità locale per l'utilizzo dell'autostrada e quindi dei nostri cittadini verso la provincia. È stata un'opera fondamentale e incisivo il lavoro del prefetto il quale ha messo da subito in chiaro la tempistica e la modalità dello svolgimento di questa rotonda al fine di farci ritornare ad usufruire dei nostri servizi.